Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La relazione tra Yannick Sinner e la tennista russa Anna Kalinskaya sembra attraversare un momento di crisi, stando a quanto suggeriscono alcuni segnali. L'assenza di Anna alle ATP Finals di Torino, dove Yannick ha trionfato contro Taylor Fritz, ha attirato l'attenzione, mentre il campione altoatesino festeggiava con la sua famiglia. Anna era a Miami con le amiche, condividendo sui social immagini spensierate della vacanza. Inoltre, la tennista ha smesso di seguire Sinner su Instagram, alimentando i sospetti di una rottura o di una pausa di riflessione, come suggerito dalla stampa russa. Secondo alcune voci, Anna sarebbe stanca di sentirsi trascurata e relegata in secondo piano rispetto alla carriera del numero uno del tennis mondiale. Nonostante il clamore, né Sinner né Kalinskaya hanno rilasciato dichiarazioni in merito, mantenendo il riservo che ha sempre caratterizzato la loro relazione. I due erano stati abbistati insieme per la prima volta lo scorso maggio a Torino, per poi confermare il loro legame con romantiche apparizioni a Parigi e una vacanza in Sardegna. In passato, Yannick aveva descritto il rapporto come naturale e complementare alla sua vita e alla sua carriera. Ora, però, il silenzio di entrambi e i recenti indizi lasciano ipotizzare che l'idilio si sia incrinato.